Assessore Francesca Frenquellucci, replichiamo alle accuse che sono state rivolte al Movimento 5 Stelle, alla persona di Francesca Frenquellucci, dall'avvocato Pia Pericci che è candidato sindaco, che accuse le sono state rivolte e come si muoverà l'assessore? Riguardano degli appalti del Comune di Pesaro, del quale anche il mio assessorato non ci ha neanche lavorato, quindi sono accuse infondate che mi collegano a dei personaggi della città di Pesaro che non sono né miei parenti né amici né conoscenti e che quindi non ho a che fare. Ho dato in mano tutto al mio avvocato anche perché io in questi anni, come ho già scritto nel post su Facebook, mi sono comportata in modo molto trasparente, anche perché comunque è una linea che il Movimento 5 Stelle vuole portare all'interno delle amministrazioni, però devo dire che anche all'interno di questa amministrazione non ho mai visto cose che potevano far pensare qualcosa che non funzionava. Poi è chiaro, queste decisioni vengono prese molte volte anche dai dirigenti, nel senso che c'è una gara d'appalto e poi il dirigente che decide fa l'atto, infatti anche per questo lo firma. Quindi quello che a me fa strano e mi dispiace è che non è il giusto modo di fare politica durante una campagna elettorale, perché mi viene anche spontaneo dire, ma in tutti questi anni, questi controlli, questi che arrivano a un mese dalle elezioni e cominciano tutti questi esposti, dove erano? Cioè questi cittadini che tanto tengono la città di Pesaro, mi dà la sensazione che viene solamente fatta la strumentalizzazione perché c'è la campagna elettorale, anche perché se fosse una cosa così grave io farei una denuncia immediata, non faccio un esposto perché l'esposto rimane, parte un'indagine e nel frattempo finisce la campagna elettorale, però nel momento della campagna elettorale, nei 30 giorni, intanto esce la notizia, perché poi in questo esposto c'è scritto molto chiaramente che non sono neanche sicuri della mia persona, ma quello che noto però intanto ai giornali è stato mandato alle testate giornalistiche, a voi della tv, alle radio e quindi tutto questo mi dispiace. Io sono molto serena e tranquilla, però questo non è il modo giusto di fare politica. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, anche tra di noi non riusciamo a capire le accuse che vengono dette anche sabato alle sit-in che hanno fatto la Baia Flaminia, anche perché a me non risulta che ci siano state minacce, da parte mia la signora Perricci non la conosco, non ci ho mai parlato e non neanche mai messaggiato. Ci siamo confrontati anche tra di noi 5 Stelle per capire se qualcuno, da quello che mi risulta, non ci sono state nessun tipo di minacce. Quindi anche questo lo trovo sempre un modo un po' non troppo corretto di fare campagna elettorale. Bisogna fare le proposte ai cittadini, bisogna avere delle idee, è una visione.